La segnalazione di questa sera avviene da alcuni cittadini frequentatori di piazza 40 Martiri, soprattutto nelle giornate di mercato. Il martedì, come dimostrano le immagini, in mesi orzoni il comune ha provveduto all'abbattimento di alcuni pini in fondo a via Mazzatinti, ritenuti pericolosi, lasciando però incompleto il lavoro con le radici che avevano sollevato in più punti sia il manto stradale interno, sia il cordolo che delimita l'area. Questo ha determinato soprattutto, come detto il martedì, con la presenza delle bancarelle del mercato, numerose cadute di persone anziane che non si accorgono di questi sollevamenti. Crediamo, scrivono la nostra redazione e gli estensori della segnalazione, che la rimozione di queste radici non sia un grosso problema, che tra l'altro si ripete anche più avanti per altre situazioni simili.